Vado a partire Io ho cambiato play Vai, facciamo l'interno Vai Oh, che vero si mette Oddio, sto un po' di carico Sta parlando di video, cazzo Ma stai registrando? Sì E' vero! La mattina quando mi alzo mi piace fare colazione coi cereali, tua mamma, dopo colazione vado in bagno, mi lavo la faccia e mi lavo i denti con il dentifricio, tua mamma, poi vado a scuola e uso i miei nuovi quaderni, tua mamma, poi però ci sono 5 noiose ore di lezione, poi nel pomeriggio, quando mi annoio prendo il telefono e chiamo tua mamma, alla sera vi mangio un bel arrosto cucinato da tua mamma, poi alla sera a letto con la luce sfusa do la voce e che arriva lei, un'angela, è bellissima, tua mamma, un speciale di ringraziamento a Gabriele, che sta facendo le sue cazzate, tra lì che senza di lui la vita è profumata e ringrazio anche mia mamma per avermi dato una voce così calda, buonanotte a tutti! grazie grazie